Benvenuto o benvenuta all'interno di questo nuovo video. All'interno di questo video voglio mostrarti come guadagno 100€ al giorno e anche di più con un sistema di affiliazione e con un sistema replicabile che puoi scaricare anche tu alla fine di questo video. Allora qua come vedi abbiamo domenica 28, ovvero ieri un 53,53 e 12, quindi sono più di 100€ di commissioni guadagnate con il piano di affiliazione di Builderall. In più abbiamo un altro 53, quindi sono tre licenze vendute e un abbonamento rinnovato. In più abbiamo un'altra licenza venduta il 27, quindi sabato, e un altro rinnovo sabato 27. Te ne potrei far vedere chissà quante. Ora lo scopo del video non è quello di farti capire che Builderall è un sistema di guadagno semplice e facile che tutti possono fare, ma è quello di farti capire che ha un piano di affiliazione ottimo su due livelli e che con un sistema che puoi avere anche tu puoi avere dei risultati interessanti. Ora qual è il sistema e come faccio a guadagnare queste cifre? Ti faccio vedere velocemente quello che avrai cliccando sul link che trovi in basso a questo video. Quindi al momento in cui finirai di guardare questo video puoi cliccare sotto il link e avere tutto il percorso di formazione più gli strumenti iniziando con un solo euro. Sono stato diverse volte al secondo posto in classifica mondiale di Builderall grazie a questo sistema e è un sistema che funziona, un sistema che diamo a tutti i nostri affiliati e che puoi utilizzare anche tu per guadagnare con le affiliazioni. Ora questa è la pagina che ti daremo, è un vero e proprio funnel dove c'è il mio video, quindi ti verrà data la pagina che puoi scaricare con due semplici click. In questo video io spiego, faccio vedere cos'è il progetto, quanti sono i miei guadagni, le mie entrate eccetera. Viene spiegato tutto, quindi cosa trovi all'interno del corso di formazione, funnel pronti all'uso, corso di formazione Facebook Ads, tutorial, video tutorial che ti servono per far funzionare il sistema, gruppo Facebook, assistenza Telegram. Tutto per un valore di mercato di 2794 euro in quanto ti diamo tutto quello che ti serve, quindi corsi per le Facebook Ads. Funnel già pronto, corsi per Instagram, corsi per YouTube, corsi per Google, quindi tutto quello che lì fuori ti vendono ha un sacco di soldi. Noi ti lo diamo solo e esclusivamente acquistando la licenza di Builderall, che il primo mese l'avrai con un solo euro. Quindi puoi entrare con un solo euro, vedere se ti piace il sistema, scaricare il funnel, fare dei test e vedrai se il sistema funziona oppure no. Quindi qui è tutto spiegato, ci sono alcuni dei risultati miei e dei miei studenti, ci sono risultati, come puoi vedere, qui siamo al decimo posto, nono posto in classifica, ho alcuni screen dove sono al secondo posto in classifica, recensione di persone che fanno anche loro questo tipo di business. e cliccando sul link che trovi in basso finirai su questa pagina. Successivamente cliccando su scopri il programma di formazione, cliccando su questo pulsante arriverai su una pagina dove io spiego il processo esatto. C'è un video che spiega esattamente tutto quello che devi fare. Quindi l'unica cosa che si deve fare per utilizzare questo sistema è scaricare questo stesso identico funnel che vedi adesso all'interno di questo video, portare traffico dalle piattaforme social più conosciute come Facebook, Google, Instagram, YouTube e portare le persone all'interno di questa pagina. Tutte le persone che vorranno iniziare un business online o che vogliono imparare l'affiliate marketing faranno accesso alla piattaforma. Dopo che faranno accesso alla piattaforma anche loro avranno capito che il sistema funziona, scaricheranno il funnel, faranno l'upgrade del piano premium della piattaforma di Builderall e tu guadagnerai delle commissioni. Adesso ti dico quali sono le commissioni che guadagnerai, quanto puoi guadagnare nel breve e nel lungo termine e perché Builderall ha il sistema di affiliazione, il programma di affiliazione migliore in Italia ad oggi. Ora, quindi qua spiego tutto il funzionamento, ti faccio vedere tutto quello che c'è, quindi vai a guardarti questo video, entra all'interno del link, ti vai a guardare questo video e vai a vedere quante lezioni, quanti corsi di formazione ti diamo entrando con un solo euro e poi rinnovando l'abbonamento ovviamente con la piattaforma di Builderall. Builderall oltre il piano di affiliazione ti serve per utilizzare gli strumenti, quindi per avere il funnel, creare funnel, fare mail marketing e tutto quello che concerne il mondo del business online. Ora, quindi questo è il sistema, vatti a guardare il video che trovi qui dentro perché grazie a questo video capirai quanto puoi guadagnare e quanti soldi puoi fare. Builderall ha un piano di affiliazione numero uno in Italia perché ti permette di avere sia delle vendite immediate, quindi dei guadagni immediati su ogni cliente che porti, più delle rendite passive nel tempo. Quindi a differenza di tutti gli altri piani di affiliazione come Warfilia e tanti altri marketplace, diciamo, se così vogliamo chiamarli, in realtà sono network di affiliazione, che vendi a un cliente, vendi una sola volta, guadagni 15-20 euro per ogni venta e poi basta, qui acquisisci un cliente e lo mantieni nel tempo, quindi guadagni sempre da ogni singolo cliente. In più, visto che Builderall ti offre un piano di affiliazione su due livelli, vai a guadagnare sia sulle tue vendite che sulle vendite degli altri, non sul primo mese ma sui ricorrenti, quindi dal secondo mese in poi. Guadagnerai 53 euro subito su ogni cliente che porti e 16 euro è qualcosa al mese per ogni persona che rinnova l'abbonamento. In più guadagnerai 16, 17 euro al mese per ogni abbonato che hanno portato i tuoi affiliati. Se ti stai chiedendo è network marketing, è un sistema piramidale, assolutamente no. È un sistema di affiliazione su due livelli, che l'azienda ti mette a disposizione in modo che puoi avere più forza su quello che è la promozione e ogni mese riesci ad avere delle rendite passive e ricorrenti interessanti. È il sistema più semplice, quello che ti diamo noi in Italia, per iniziare un business e diventare un top affiliato. Ora, semplice non vuol dire facile, non vuol dire che in tre giorni avrai dei guadagni esorbitanti e non vuole neanche dire che diventerai ricco milionario in una settimana. Quindi ci vorrà sicuramente un po' di impegno. Devi seguire i percorsi di formazione, devi lanciare le campagne oppure lavorare in organico seguendo i corsi di formazione che noi ti diamo e che ti mettiamo a disposizione all'interno della nostra area riservata. Quindi, detto questo, ora io adesso entrerò all'interno di Builderall perché voglio farti vedere quello che avrai all'interno della piattaforma oltre ai 45 strumenti, sono più di 45 strumenti che se devi comprarli separatamente sul web come per esempio ClickFunnel, GetResponse e altre Kajabi per i corsi di formazione, eccetera ti costano più di 500 euro al mese. Con questa piattaforma di marketing puoi fare qualunque cosa quindi puoi vendere corsi di formazione, puoi fare affiliate marketing puoi creare landing page, funnel, autoresponditore di email, corsi di formazione e quant'altro quindi è veramente super completa. Ora, all'interno della piattaforma se entrerai a far parte di Builderall oltre ad avere i nostri percorsi di formazione di Facebook, Youtube, Instagram, eccetera avrai un altro corso di formazione di 212 lezioni dove all'interno ti viene spiegato praticamente tutto quindi tutti i passi per iniziare a fare l'affiliazione con Builderall l'affiliazione, quanto si guadagna, come utilizzare i programmi che ci sono all'interno per creare funnel, siti web, eccetera come vedi sono tantissime lezioni super checkout, puoi creare applicazioni per smartphone e via dicendo quindi è veramente super un piano di affiliazione, super ora io vivo grazie all'affiliate marketing, all'enter marketing, mi occupo anche di social media marketing per aziende ma quello per cui mi piace di più, quello per cui sono più appassionato è l'affiliazione quindi creare rendite, fare vendite automatiche, lanciare campagne pubblicitarie, guadagnare su ogni vendita e quindi aumentare quello che è il mio patrimonio se così vogliamo chiamarlo detto questo, l'unica cosa che adesso ti consiglio di fare se vuoi capire come puoi avere tutte queste cose con un solo euro entrare a far parte di questo sistema, diventare un top affiliato perché questo è quello che vogliamo per i nostri studenti clicca sul link, trovi un link in descrizione sotto questo video che ti porta alla spiegazione completa dove potrai fare accesso immediatamente per questo video è tutto, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale perché ti darò delle informazioni utili sull'affiliate marketing informazioni non teoriche ma pratiche quindi ti faccio vedere tutto quello che devi fare, come funziona l'affiliate marketing come muoverti, quali sono le più impassi da fare e se sei un networker magari lavori con qualche azienda di networker, Balife, Amway tutte queste aziende di network marketing che se sai cosa è networker marketing ci siamo capiti, ti spiegherò come generare contatti ogni singolo giorno dell'anno per il tuo business, quindi seguimi in questo canale e sarcasmo a parte, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao ciao